Salve a tutti! Oggi voglio parlare di come riuscire a realizzare un comparatore utilizzando solo elementi discreti, quindi nello specifico utilizzando solo dei BJT, delle resistenze e dei diodi. Ora, la prima domanda che si ci pone è perché bisognerebbe realizzare un comparatore a elementi discreti. Diciamo che in generale non conviene farlo e conviene invece comprare già il comparatore realizzato come integrato, come ad esempio questo package che ho qui di fianco. Solo che il problema che mi è capitato è che, come succede certe volte acquistando online, è che il comparatore che avevo ordinato e che mi è arrivato in realtà è un falso, ovvero è stato stampato sopra il part number dell'oggetto che avrei desiderato, ma in realtà è un tarocco. e quindi mi ritrovo senza comparatore. Ora, anche se ne ordinassi un altro, diciamo che non mi arriverebbe in tempo e avrei dei ritardi su un progetto che sto realizzando. E quindi, morale della favola, mi sono chiesto se era possibile realizzarlo a discreti in modo da poter in questo modo avere un comparatore. Dopo un po' di studi e ricerche online su alcuni circuitini custom che sono stati realizzati, sono riuscito finalmente ad arrivare a quella che sembra una configurazione accettabile per un comparatore e quindi dovrebbe avere delle prestazioni sufficienti per poter essere definito tale. E il circuito che ho pensato di realizzare è quello che viene riportato già sul foglio. Diciamo che questo circuito ricorda molto quello di un semplice e classico circuito di amplificatore operazionale. Infatti, come si può vedere, vi è lo stadio di specchio di corrente realizzato a PNP. Poi vi è lo stadio di comparazione dei segnali realizzato a NPN, dove in pratica questo ingresso corrisponde all'ingresso non invertente dell'amplificatore operazionale, mentre questo corrisponde all'ingresso invertente. Dopodiché vi è lo stadio di uscita realizzato con questo BJT PNP e quindi questo è appunto sarebbe l'uscita dell'amplificatore operazionale. Però diciamo che questo circuito, se venisse utilizzato come amplificatore operazionale, non avrebbe assolutamente delle buone prestazioni. Mentre se venisse utilizzato come comparatore così come voglio fare io, le prestazioni sarebbero davvero molto molto elevate. Almeno così sembrerebbe dalle simulazioni che ho effettuato su LTSpice. Ovviamente per avere la certezza quello che bisognerà fare è appunto andare ad eseguire dei test su questo circuito. Quindi lo andrò a realizzare su una breadboard e poi con l'oscilloscopio andremo a prendere le misure fondamentali. Ovvero come rappresentato qui sul foglio andrò a collegare sull'ingresso non invertente un generatore di segnale a onda quadra, segnale il quale verrà comparato con una tensione fissa di 6 volt. Quindi da questa comparazione il risultato sarà che in uscita dovrei rivedere la stessa onda quadra in ingresso e quindi posizionando una sonda sull'uscita e sull'ingresso saremo in grado di valutare la fedeltà del segnale riprodotto, quindi sia in termini di ritardi e sia in termini di t rise e t fall. Ultima nota importante prima di procedere con la fase di test è che l'elemento più importante di questo circuito è questo diodo. Infatti, anche se non sembra, questo diodo svolge una funzione concettuale molto molto importante, ovvero serve per realizzare quello che viene chiamato clamp di Baker. Infatti essendo che questo è un circuito di comparazione, abbiamo che questo BJT funzionerà o totalmente acceso o totalmente spendo. E come sappiamo da teoria, i transistor sono bravissimi ad accendersi ma non tanto a spegnersi. E questo ritardo di spegnimento, causato da motivi fisici, viene chiamato storage time. Ora, per ridurre questo storage time viene appunto inserito nel circuito questo diodo che, diciamo, favorisce lo spegnimento del transistor. Quindi, poi in fase di test farò vedere cosa succede al tempo di chiusura di questo transistor quando viene rimosso questo diodo. Molto bene, quindi adesso preparo il setup di misura e poi ci rivediamo direttamente per la fase di test. Ho montato il circuito sulla breadboard, quindi in mezzo a tutta questa confusione ci sta lo schematico che abbiamo visto. Questo è il generatore di onda quadra e qui sono posizionate le sonde, quindi questa sull'ingresso e questa sull'uscita del comparatore. Quindi adesso andiamo a vedere sull'oscilloscopio le sue prestazioni. Ecco qui quello che si vede, quindi la forma d'onda gialla è riferita all'ingresso mentre la forma d'onda blu è riferita all'uscita. Quindi abbiamo in ingresso un'onda quadra di 100 kHz con il duty del 50% e come si può vedere diciamo che ad occhio già si vede che le prestazioni sembrano abbastanza elevate. Ora andiamo a vedere la fase di salita, ecco qui, quindi possiamo vedere che la fase di salita ovvero la forma d'onda blu è molto più veloce rispetto alla fase di salita del generatore di onda quadra come c'era da aspettarselo perché come detto i transistor sono bravissimi in accensione, mentre per quanto riguarda l'uscita cioè la fase di discesa, qui diciamo che le prestazioni sono un po' più basse. Quindi abbiamo che quando il segnale d'ingresso scende ci sta un delay di circa 150 nanosecondi e poi un tempo di discesa di spegnimento del transistor di circa 100 nanosecondi. Provo a misurarli col cursore. Quindi come detto abbiamo un delay di circa 160 nanosecondi mentre un tempo di discesa di circa 114 nanosecondi che comunque sono bassissimi in quanto sono assolutamente confrontabili con alcuni dei comparatori più prestanti che si trovano in commercio. Molto bene, ora voglio effettuare la prova togliendo il diodo di clamp. Quindi andiamo a vedere cosa succede a queste prestazioni quando il diodo non è presente nel circuito. Ho rimosso il diodo e come si può chiaramente vedere le prestazioni in spegnimento sono peggiorate tantissimo. Infatti abbiamo un delay, un ritardo di 430 nanosecondi e un tempo di discesa di circa 110 nanosecondi. Quindi uguale al tempo di discesa precedente. Però il delay è peggiorato tantissimo. Mentre per quando riguarda la fase di salita, come possiamo vedere è rimasto invariata rispetto a prima. Perché appunto, come detto, quel diodo serve per lo spegnimento dei transistor e non per l'accensione. Quindi, come detto, questo risulta davvero di vitale importanza per le prestazioni del circuito. Molto bene. Quindi, come abbiamo potuto vedere, il circuito funziona perfettamente e le prestazioni come comparatore risultano davvero molto buone. credo che si possa fare di meglio, nel senso che quando verrà saldato su una mille fori, le prestazioni saranno ancora migliori. Quindi, quei tempi di delay e di discesa saranno più brevi. Perché diciamo che su una breadboard vi è la presenza di parecchie capacità parassite dovute al fatto che ci sono delle piste metalliche in parallelo fra loro. Quindi è come se fra i piedini di questi bgt ci fossero delle capacità parassite molto elevate. E quindi, come sappiamo, queste capacità vanno a peggiorare quelle che sono le prestazioni dinamiche dei transistor. Quindi su una mille fori questo problema non si presenterà e quindi sono fiducioso che le prestazioni saranno ancora più alte. Molto bene. Quindi per questo video è tutto alla prossima!